Ebbene ragazzi finalmente è uscita la nuova stagione di Apex Legends, ieri ho avuto la possibilità di provarla, strano perché in genere quando esce una nuova season io la provo dopo 3-4 giorni perché ogni volta succede di tutto, ma ieri incredibile al day 1 non c'è stato nessun problema, ho scaricato l'aggiornamento subito, i server andavano, quindi devo dire che da questo punto di vista è andata bene. Nel video di oggi dunque vi parlerò delle mie primissime impressioni a caldo sulla nuova stagione, su quelli che sono stati i maggiori cambiamenti e in generale cercherò di fare una previsione di come sarà questa stagione, ma prima di iniziare come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, spuntate la campanellina per restare aggiornati con tutti i miei contenuti, inoltre sotto in descrizione trovate il link a tutti i social, canale, telegram, discord, instagram, c'è veramente di tutto, grazie di cuore e del supporto. Inoltre tra pochissimo vado in live su Twitch, quindi dalle 14 alle 17 dal lunedì al venerdì sono in live, link in descrizione, passate per un saluto o qualche game insieme o anche per parlare di questa nuova stagione. Detto questo non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e iniziamo. Allora io partirei subito parlando di un'impressione generale che ho avuto di questa stagione. Quando abbiamo letto le patch notes, fra virgolette, quelle del diario dello sviluppatore, vi avevo detto che da come ne avevano parlato la mia impressione era tanto di una season di transizione. Questo perché ad un certo punto avevano specificato che stavano già lavorando alla season 19. Ora il fatto che loro lavorino già ad altre season successive è normale, è sempre stato così, ma il fatto che avessero bisogno di specificarlo in quelle patch notes mi ha fatto pensare così una prima impressione che effettivamente era una season di transizione, tanto è che nel video lo dico. Leggendo le patch notes, quelle uscite lunedì, il giorno prima della season, mi avevano confermato questa mia primissima impressione e anche in quel video vi dico che mi sembra molto una season di transizione. Ieri, quando sono entrato per la prima volta nella stagione 18 di Apex Legends, poco dopo aver visto la nuova lobby, l'evento, il ciondolo, la scia e il beige, quando poi sono sceso effettivamente in partita ho avuto una sensazione particolare, una che non mi succedeva da molto tempo. In genere quando esce una nuova stagione, vuoi o non vuoi, sembra un po' di star giocando a qualcosa di nuovo, un gioco leggermente diverso, nuovo, in alcuni casi anche stravolto. Alcune stagioni hanno migliorato notevolmente il gioco e sono dell'opinione che se non giochi, che ne so, da un anno ad Apex Legends, quando torni effettivamente ti sembra di star giocando a un nuovo gioco. E questi cambiamenti man mano tu li vai a percepire durante le varie stagioni. E quando ieri sono entrato in game, effettivamente, era come se stessi giocando la stessa stagione. Sarà, fra l'altro ora qui in video vi mostrerò le mie primissime partite in ranked giocate ieri, sarà anche dovuto al fatto che c'era l'una distrutta, che era la stessa mappa che abbiamo avuto per praticamente gli ultimi 30 giorni. Quindi anche questo magari ha un po' influito, sicuramente. Però al di fuori dei cambiamenti, dei bilanciamenti che abbiamo avuto e dei cambiamenti in ranked, non c'è stato nessun stravolgimento. E il che alla fine ci può stare, nelle ultime stagioni abbiamo avuto degli importanti stravolgimenti. Scorsa stagione abbiamo avuto il cambiamento alle ranked, il cambiamento al poligono di tiro, abbiamo avuto veramente dei cambiamenti molto grandi. La season 5 è arrivata alla nuova mappa, quindi ci sta che questa sia effettivamente una season di transizione. E il che non deve essere per forza una cosa negativa, se avete seguito il mio video sulle tier list delle migliori stagioni di Apex Legends, sapete che ad esempio la stagione 6 di Apex è stata una gran bella stagione, seppur di transizione verso una stagione 7 che portava stravolgimenti importanti al gioco, come la nuova mappa Olympus, poi Horizon e altri importanti cambiamenti. Comunque la season 6, nonostante fosse appunto di transizione, è stata una gran bella stagione. Quindi io mi auguro che questa diciottesima stagione, nonostante sia una stagione di transizione, sia bella. Lo spero. Oltre a questo vi volevo parlare dei bilanciamenti che ci sono stati alle armi e alle leggende. Partirei con le leggende. Ho provato Seer, ho giocato con Joe che gioca Seer, che ha sempre giocato Seer, diciamo il suo main. E butta parecchio male, sembra che effettivamente siano riusciti ad abbattere Seer. Sembra, la sensazione è quella, vedendo anche i commenti dei pro player, ieri ho visto su TikTok la reazione di Reps a Seer, anche lui butta molto male per quanto riguarda il Seer. Quindi pare che dopo 7 stagioni, il Seer era uscito in season 10, però sembra che dopo 7 stagioni siano riusciti ad abbattere effettivamente il Seer. Per quanto riguarda gli altri cambiamenti, devo essere sincero, non li ho notati così tanto impattanti in game. Probabilmente chi gioca a Bangalore avrà notato il cooldown aumentato di un minuto, chi è magari main jibi ha notato di avere l'ultimate più spesso. Per quanto invece riguarda le armi, che sono sicuramente stati dei cambiamenti più impattanti, anche se il cambiamento più impattante che abbiamo avuto, secondo me, con le patch notes di questa stagione è un altro, e ne parleremo tra poco. Sì, sto parlando del loot. Comunque, per quanto riguarda le armi, abbiamo dei cambiamenti importanti, abbiamo il Prowler, raga, è bellissimo, che peraltro mi piace un botto il fatto che il Prowler sia forse l'unica arma all'interno di Apex Legends che funge sia da SMG che da fucile d'assalto, perché il Prowler con il fuoco automatico ha praticamente un rinculo da fucile d'assalto e puoi spararci in midrange esattamente come con un R301, fa anche gli stessi danni, perché è veramente OP. In fuoco a raffica, raga, lo sappiamo, è devastante, gli hanno aumentato anche un danno, quindi del Prowler è un'arma rotta da Care Package, ma in realtà tutte le ultime armi nel Care Package sono state rotte, abbiamo avuto l'R45, abbiamo avuto l'Alternator per Forascudi, insomma, nelle ultime stagioni per quanto riguarda le armi del Care Package sono state tutte belle e potenti. Inoltre questa stagione abbiamo sia l'Hellstar che il Prowler, quindi immaginatevi un'accoppiata Hellstar Prowler, cosa può combinare? L'Hellstar in midrange, il Prowler in close, il devasto, il devasto più totale. Per quanto riguarda le altre armi, ho provato il PK col Perforascudi e mamma mia, mamma mia. C'è da dire che ieri ho giocato ben 20 partite, tipo, e non l'ho trovato mai il Perforascudi, sarò stato io sfigato. Però quando ce l'hai fa veramente tanto, tanto male. Ragazzi, 122 danni con un solo colpo, praticamente il PK ti torna a double shottare. Ecco, è una bella arma adesso, è un bel cambiamento. Da una parte abbiamo un nerf all'SMG, dall'altra abbiamo un buff agli shotgun. Anche il Mastiff, ragazzi, non sottovalutate il cambiamento al Mastiff, provatelo, perché seppur sia stato un cambiamento piccolo, no, solo la riduzione della rosa dei colpi, comunque il Mastiff mi sembra ittare veramente tanto. Io ogni volta che l'ho giocato meno di 88 non facevo, botta, quindi molto interessante. Per quanto riguarda invece il nerf all'SMG, ragazzi, devo essere sincero, non ho notato differenze, non ho notato cambiamenti, neanche per il 99. Il 99 ha 17 colpi quando sei senza caricatore, ma comunque mi è sembrato, non dico rotto, ma molto forte come arma. Secondo me comunque resta superiore agli altri SMG, comunque secondo me resta superiore anche al car, forse ormai se la giocano, se la giocano bene, però siamo sempre lì, ragazzi. Non ho notato particolari differenze, sinceramente. Comunque credo resti in meta tra le armi di questa stagione, poi staremo a vedere. Ho provato anche la Spitfire, ragazzi, sta tornando, la Spitfire sta tornando, io ve l'avevo detto che sarebbe tornata, era solo questione di tempo, l'hanno baffata scorsa stagione, l'hanno ribaffata questa stagione, gli hanno messo adesso, gli è tornata la canna, e raga, provatela. Io già scorsa stagione, quando abbiamo fatto la tier list delle armi, vi avevo detto di non sottovalutare la Spitfire, provatela e poi fatemi sapere, è tornata ad essere una signora arma. Ora, sicuramente in questa stagione abbiamo il Nemesis che è nel Crafter, però abbiamo comunque la Carabina, abbiamo il Flatline, però ora la Spitfire è comunque una valida alternativa, secondo me, come arma, se pece, se magari volete giocare un LMG, se siete Rampart, tanta roba la Spitfire. L'Alternator con il Perfora Scudi, ragazzi, l'ho provato in Poligono, non ho avuto la possibilità di provarlo in game, perché non ho trovato, come dicevo prima, non ho trovato il Perfora Scudi, e raga, è devastante, cioè, è veramente molto forte. Ha un danno troppo più elevato, anche rispetto al 99, ha un recoil, lo sappiamo, il recoil dell'Alternator qual è, molto easy, e inoltre ha un aim assist in hipfire, per quanto riguarda noi pad player, che è fuori dal comune. Oltre a questo, e tra poco parleremo anche dei aim assist, oltre a questa, Arma, vi volevo parlare anche dell'Mlock, da non sottovalutare l'Mlock, come vi dicevo nelle patch notes, sì, da una parte abbiamo il Nemesis, dall'altra parte abbiamo il 30-30 Repeater, ma l'Mlock è stato buffato, rispetto a come ce l'avevamo prima del Car Package, e ieri l'ho giocato, ragazzi, e con una raffica voi craccate, cioè, se voi mettete 3 colpi, fate 70 di danno, se vi entra un HS, avete praticamente fatto 100, avete craccato il vostro avversario, è veramente molto forte. E non dico che sia più forte, magari, di un Repeater, o di un Nemesis, ma secondo me lo potete giocare benissimo, è una valida alternativa a queste altre due armi. Detto questo, parliamo delle aim assist. Tutti i miei cari amici che mi seguite, che siete anche voi da console, avete notato qualcosa di strano? Fatemi sapere qua sotto nei commenti, io mi sono già confrontato con tutti coloro che giocano con me, insomma, e tutti quanti concordiamo su un punto. Ora, io vorrei sapere anche la vostra sotto nei commenti, ripeto, ma che cosa hanno combinato alle aim assist? C'è un aim assist, ragazzi, devastante, ma c'è un aim assist clamorosa, non è mai stata un aim assist così, e non ci sta né in cielo né in terra, cioè, io sono il primo a dirlo, cioè, spari, cioè, tu stai lì così, fai così, è one creepy la gente, perché non so che cosa sia successo, ma c'è un aim assist incredibile, veramente, è clamorosa, non so, magari ora entro in game e l'hanno già fixata, magari hanno combinato qualcosa. È già successo in passato, in season 11 l'avevano abbassata, su quella da console l'avevano abbassata un botto, e infatti non c'era aim assist, in questa stagione c'è il problema opposto, cioè, io che sono Pathfinder, non posso rampinare perché mi becco i due centro mentre sto rampinando, perché... Anche il tipo livello 20 che sta stravaccato lì sul letto, one clippa, perché vi aggancia, ragazzi, non vi molla più. Cioè, c'è qualcosa che non va, veramente. Il problema è che questa cosa qui va ad annullare la skill, no, in un certo senso, perché se io sono bravino a giocare a questo gioco, arriva il tipo che non sa giocare a questo gioco per niente, però sta fermo come un palo, prende la mira e ti one clippa. Chiaramente, ragazzi, sto parlando su console, siamo tutti su console, siamo tutti col pad, si spera, anche se purtroppo ci sono anche molti da MK, piccola parentesi, però siamo tutti da console, siamo tutti col pad, più o meno, e quindi va a finire che... non lo so, mi è dato la sensazione che semplicemente si vada ad annullare la differenza di skill tra i player, questa è la sensazione che mi ha dato ieri. Ora, magari, ripeto, ora entro in game e non ci sarà più questo problema. O magari non c'è mai stato ed è solo stata un'impressione mia e delle altre dieci persone con le quali ho parlato. Può darsi, eh. Non c'è nessuna comunicazione ufficiale, ma, d'altronde, sappiamo, insomma, respawno com'è, 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 com'è respawno. Magari ne parleranno, magari no. Saremo a vedere. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. PS, ultima nota a margine, ho shoppato la skin del 99 dell'evento, non ve la consiglio. Ci sono rimasto malissimo. Ovviamente l'ho presa per il mirino, che è pay to win, vabbè, lo sappiamo, ragazzi, l'ho presa per quello. Bella, bello il mirino, va bene, ma per quanto riguarda la skin mi aspettavo qualcosina di più. Magari avevo io le aspettative molto alte, ma è praticamente una skin nera con il mirino pay to win. Anche grossa, fra l'altro, l'ho trovata molto più grossa rispetto alla sua variante bianca che c'ho già. Quindi se siete in dubbio se shopparla o meno, ovviamente questa è una mia opinione personale, però se siete in dubbio se shopparla o meno, la giocherò in live, quindi potete venire a vederla. E che altro dire, ragazzi? Le impressioni a caldo di questa stagione sono di, ripeto, una stagione di transizione che spero di vivere meglio rispetto alla scorsa season per un fattore di mappe, devo essere sincero. Il problema più grande, fra l'altro, di cui non abbiamo parlato, ragazzi, è il loot. Mi stavo dimenticando del loot, raga, è clamoroso, non c'è loot, non c'è loot. Ora, ieri su Twitter se ne sono lamentati tantissimi, soprattutto, vabbè, le personalità più influenti, ne hanno parlato tanto, si sono lamentate tanto. Effettivamente da mezzanotte di ieri, poi la situazione stava iniziando a migliorare, la sensazione era quella, che avevano fatto questa cosa, poi la gente si è iniziata subito a lamentare e quindi hanno ridistribuito un po' il loot, mi ha dato questa sensazione. Però, a parte questo, raga, non si trova loot, le armor blu sono rarissime, gli accessori sono rarissimi. Veramente è complesso iniziare le partite così, è veramente molto complesso, perché se tu unisci questo cambiamento qui, hai il cambiamento gli anelli, in conseguenza tu hai meno tempo di lootare, di lootarti una zona più ampia, perché se non trovi armor cerchi sicuramente di evitare il fight, di lootare finché almeno non trovi una blu, però, d'altra parte, hai meno tempo per lootare perché già c'è l'anello che si sta chiudendo e, raga, la safe 1 fa male. Già la safe 1 fa male perché corre di più, perché fa un danno in più. Stare fuori safe non è conveniente, non è più conveniente. Questa, da una parte, ci sta perché, come sappiamo, scorsa stagione cosa è successo. Dall'altra parte, rende la vita un po' più difficile. Un bel po' più difficile perché ieri, praticamente, nelle prime quattro partite, raga, in mid-game stavamo in safe 3, penso che avevamo appena stento le blu, e lì la situazione è un po' più complessa. Staremo a vedere come si evolverà la situazione, non capisco questo cambiamento, l'ho detto nelle patch notes, lo ridico adesso, non capisco perché cambiare questa cosa delle armor e degli accessori. Fatemi sapere cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti. Detto questo, ragazzi, spero che questo video non sia venuto troppo lungo, queste sono le mie primissime impressioni a caldo, quindi poi quando parleremo di questa stagione, tra una ventina di giorni, quando faremo la tier list, ne parleremo in modo più approfondito sicuramente, ma per ora queste sono le mie primissime impressioni. Fatemi sapere voi cosa ne pensate qua sotto nei commenti, ed Hasrel adesso è solo per adesso, è tutto. Un saluto e alla prossima, mi raccomando, fate i bravi!